cari anime gemelle benvenute nella vostra lettura mensile per il mese di giugno 2021 allora qui la situazione inizia con questa carta dell'impegno come energia principale per questo mese qui sicuramente c'è da parte di entrambi sia l'energia maschile che femminile la voglia di impegnarsi e quindi di iniziare veramente una relazione anche se voi in questo momento siete single comunque questa carta vi rassicura nel fatto che pure se pensi che magari sarai da solo ancora per un po oppure ti sei rassegnato qui invece la carta ti dice non è mai detta l'ultima parola quindi in realtà qualcosa succederà e questo mese sembra promettere bene anche la carta dei tarocchi acascici del 3 di pergamene ci racconta che è tempo di impostare delle nuove rotte e quindi di prendere anche un'altra direzione diversa nella vita di tentare nuove strade soprattutto se siete single per riuscire a trovare il vostro partner questa carta vi dice che avete vicino a voi delle persone che vi possono aiutare con cui potete collaborare e tramite cui potete fare delle nuove conoscenze quindi magari delle amicizie in comune da conoscere anche per le coppie questa carta ci indica che comunque avete intorno a voi delle persone che vi sopportano sono a favore della vostra relazione non vi stanno creando dei problemi la carta invece rovesciata che si intitola volontà saggezza e mente vi raccomanda di ritrovare le vostre energie per buttarvi a capofitto in nuove imprese quindi anche nuove tecniche magari seduttive oppure di attrazione perché tendete un pochino troppo a ripetere gli stessi atteggiamenti e quindi è proprio per questo che magari non trovate un nuovo partner se siete singolo oppure non riuscite a trovare magari qualche cosa nuova interessante da fare in coppia quindi qua c'è da fare un passetto indietro smettere di sprecare tempo in cose che avete già fatto e lavorare sul vostro equilibrio psicofisico in primis per ritrovare queste nuove energie da mettere nel campo amoroso adesso andiamo a vedere che l'energia femminile sta vivendo in questa situazione se è singolo oppure anche se è in relazione come la carta della separazione ovvero si sente in questo momento come se fosse da sola come se dovesse ritrovare anche in un momento un pochino più di solitudine con se stessa queste nuove energie da mettere in campo per poi magari trovare la voglia di farle insieme a partner queste cose nuove qua c'è anche un messaggio importante per tutte le energie femminili che hanno avuto una separazione un divorzio ovvero che qui sta per arrivare una la vostra prossima relazione e quindi questa fase di separazione in cui vi sentite da sole sta per concludersi ma in ogni caso l'energia femminile in questo momento sta un pochino raccogliendo le idee per capire che cosa può fare di nuovo che cosa può mettere in atto con l'energia maschile che ancora non ha fatto come ci racconta la carta del due di rose ultimamente l'energia femminile ha dovuto un pochino allontanarsi magari dalla vita affettiva perché ha avuto diverse problematiche a cui pensare che erano un pochino più urgenti però adesso ha ritrovato lo spirito giusto per affrontare qualsiasi tipo di problema ha capito soprattutto come ci racconta la carta del 3 di chiavi che a volte ha avuto delle reazioni emotive eccessive e quindi questo è stato causa di fraintendimenti e che adesso si deve un pochino distaccare dalle situazioni per guardarle un pochino più lontano e analizzarle meglio esattamente come si fa nel gioco degli scacchi cercare di capire qual è la reazione che possa corrispondere a una sua azione quindi l'energia femminile per questo mese la vediamo un pochino più distaccata ma soprattutto un po' più riflessiva, più analitica in particolar modo intenzionata a non ripetere gli stessi atteggiamenti del passato che l'hanno portata a fare degli errori che si sono ripetuti e con questa carta della passione l'energia femminile vuole certamente ritrovare quella passione che le è mancata ultimamente e non dedicare più la sua attenzione a eventuali drammi o problemi ma ritrovare proprio una gioia in coppia ma ha capito che questa gioia non la deve semplicemente trovare con un partner la deve prima trovare dentro se stessa e poi vuole avere il partner che condivida con lei le sue stesse passioni per poter attuare questo tipo di relazione che ha in mente adesso lei sta cercando di lasciar perdere le proprie credenze e andare oltre, scoprire delle cose nuove e soprattutto capire di più qual è la verità qui per tutte le energie femminili single c'è proprio l'intenzione di cercare di guardarsi meglio intorno per capire qual è la persona che può fare al caso suo e invece per chi è in coppia c'è proprio l'intenzione di far passare la relazione a un livello successivo quindi adesso si sta tutta concentrando sul ritrovamento delle proprie energie e soprattutto si sta focalizzando solo sulle cose che le danno una pace interiore perché ultimamente si è sentita abbastanza debole e persa in diversi ambiti, in diverse problematiche quindi adesso sta cercando in tutti i modi di ritirarsi su, di ritrovare la propria energia fisica e anche il coraggio per fare dei passi avanti nella propria vita affettiva infatti con la carta del matrimonio lei per questo mese di giugno cercherà di far passare a un livello successivo la relazione se è in coppia oppure di trovare un nuovo amore se c'è stata una separazione mentre per le energie femminili che sono single cercherà proprio di stare in compagnia degli altri quindi magari anche in compagnia di altre coppie oppure andare a qualche matrimonio che è in programma per vedere di trovare qualcuno di nuovo e questa carta dell'arcangelo Gabriele ci racconta che lei durante questo mese cercherà di capire quali sono le persone con cui si può veramente confidare con chi veramente può parlare a cuore aperto infatti non sta dicendo che lei sta cercando delle collaborazioni quindi qualcuno con cui condividere veramente la sua vita quindi mettere in pratica la sua missione di vita quindi qui abbiamo un quadro generale dell'energia femminile per questo mese di giugno che è un'energia molto più controllata, molto più analitica e anche stratega che ha lasciato perdere vecchie problematiche e soprattutto vecchi drammi di cui non vuole più saperne perché le hanno portato via tantissima energia e adesso invece vuole ritrovare la sua forma psicofisica e rimettersi in gioco un amore mentre qui l'energia maschile per questo mese sta cercando degli aiuti e soprattutto dei consigli per cercare di discutere quali sono le sue possibilità le sue speranze in amore, parlare con qualcuno a cuore aperto dei suoi sogni e quindi qui c'è da parte sua proprio l'azione di confidarsi con le persone che lui ritiene amiche e cercare di ascoltare i loro consigli e magari farsi aiutare proprio con le uscite degli amici se è single a trovare qualcuno di nuovo mentre per chi è in coppia qua c'è la voglia di coinvolgere anche le amicizie nelle uscite di coppia quindi qui abbiamo un'energia maschile che ha bisogno del confronto con gli altri come ci dice la carta rovesciata dei percorsi sconosciuti in questo momento non sa bene che strada prendere quindi dà un'occhiata al passato per capire che cosa ha fatto finora e poi è pronto a fare questo salto nel vuoto, nel buio per trovare qualcosa di nuovo perché quello che spera di trovare con questa carta dell'incontro destinico è proprio l'incontro della sua vita naturalmente per chi è single per chi è già in coppia invece questa carta indica il voler verificare che questa relazione sia quella per la vita quindi ecco perché anche il confronto con gli amici e parenti e con la carta che si intitola fare uno sforzo sicuramente lui questo mese di giugno lo vede come un momento in cui si deve dare una svegliata e deve fare qualcosa di diverso perché già da tempo che si sente un po' intrappolato in una situazione stagnante da cui non riesce a trarne più un reale beneficio quindi adesso si è deciso a fare i primi passi per trovare il vero amore oppure per trovare la conferma che quello che ha già sia il vero amore l'atteggiamento che metterà in pratica durante questo mese con questa carta rovesciata dell'estate-inverno è soprattutto quella di riflettere e pianificare meglio il futuro e le mosse che può fare quindi raccogliere le energie soprattutto le idee e pensare meglio alle prossime mosse e quindi qui con questa carta del fulmine rovesciato per tutte le energie maschili che sono ancora single si dedicheranno con attenzione a tutte le novità ovvero a tutti i nuovi incontri che potranno fare durante questo mese per cercare di capire veramente se hanno trovato la persona giusta per chi è in coppia questa carta ci dice che la tempesta si è esaurita e quindi adesso c'è da chiarire sicuramente delle cose nella relazione e poi capire quali saranno i prossimi passi qui anche la carta delle conversazioni cuore a cuore ci ribadisce che durante questo mese l'energia maschile cercherà un confronto in particolare se è single un confronto con le persone a lui care per cercare di capire che cosa ne pensano e quali consigli può seguire mentre per chi è in coppia l'energia maschile è disponibile ad aprire delle conversazioni e a confessare esattamente quello che sente davvero e soprattutto a dire con onestà quali sono i suoi reali bisogni quello che cercherà di nascondere durante questo mese è il fatto che lui si sente comunque alle porte dell'inizio di un nuovo percorso e quindi comincia a percepire questa nuova gioia nella sua vita una nuova spensieratezza che gli sta arrivando che non vuole ancora che sia così lampante, così evidente perché ha in mente di fare dei cambiamenti che già si vede proiettato nel futuro che questi cambiamenti gli porteranno una nuova felicità e quindi ancora non li vuole svelare ma già lui percepisce dentro di sé questa nuova emozione quindi anche per l'energia maschile qui abbiamo un quadro di un lui che sta cercando veramente di fare mente locale e attuare delle scelte e fare anche dei cambiamenti nella sua vita e soprattutto di andare a seguire solo le cose che gli danno una vera gioia da adesso in poi e che corrispondono ai suoi effettivi bisogni quello che succederà in effetti durante questo mese di giugno con questa carta che si intitola chiamata per le anime gemelle qui c'è proprio una specie di richiamo fra l'energia maschile e femminile a ritrovarsi quindi qui cari amici e amiche per voi che siete in coppia e che potreste rendervi conto durante questo mese che la persona conquistata non è veramente la vostra anima gemella comincerete ad avvertire un'attrazione che vi porta da un'altra parte mentre per tutti i single qui c'è l'impegno da parte di entrambe le energie a migliorare i propri difetti perché capisce che se continua a stare in certe energie un pochino basse un po' negative attrarrà una persona che corrisponde a quell'energia e ovviamente non si tratta dell'anima gemella e quindi c'è proprio l'impegno da parte di entrambe le energie ad elevare il proprio benessere psicofisico per riuscire a connettersi con la propria anima gemella e riuscire ad attrarla nella propria vita anche la carta della regina delle rose qua ci dice che comunque c'è la voglia di essere un pochino più ricettivi all'amore e di ritrovare quella gioia con la felicità di stare insieme a qualcuno che ricambia e in particolar modo con questa carta del Buddha rovesciato sia l'energia femminile che quella maschile capiranno che dopo aver passato magari questo mese in particolar modo a riflettere arriverà poi anche il tempo dell'azione e quindi adesso è anche il tempo di andare a cercare magari la propria anima gemella quindi guardarsi meglio intorno fare nuove uscite soprattutto per i single quindi qui abbiamo il prospetto di un mese che è un mese un pochino molto più tranquillo rispetto ad altri passati soprattutto che vede l'energia femminile un pochino più tranquillizzata un pochino più rilassata che sta cercando di fare dei passi avanti anche con se stessa e non lasciarsi più trascinare dalle solite emozioni negative ed è anche pronta se già in coppia a migliorare la situazione e a far fare dei passi avanti alla relazione più o meno la stessa cosa sta vivendo anche l'energia maschile che però cerca anche un supporto da parte degli altri quindi sta cercando dei consigli e anche lui farà le sue valutazioni e come ci dice la carta finale che è questa qui della chiamata verso la propria anima gemella l'energia maschile sembrerebbe un pochino più deciso a lasciar perdere qualora si rendesse conto che sta in una relazione che non è con la sua anima gemella quindi qui c'è sicuramente da parte di entrambi la voglia di ritrovarsi e di vivere l'amore a pieno quindi sotto tutti i suoi aspetti e soprattutto nella gioia e nella felicità entrambi rifletteranno a fondo sulla loro vita su se stessi per poi cominciare veramente a fare delle azioni nuove e anche dei cambiamenti bene cari anima e gemelle noi ci sentiamo con le prossime previsioni e io vi auguro a tutti un buon giugno 2021 a tutti un buon giugno 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 Grazie.